Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti all'appuntamento in diretta che precede l'edizione del 13 e 20 del nostro telegiornale. È tornato nei nostri studi Enrico Eva, direttore generale di Conf Artigianato Trieste, grazie direttore per essere nuovamente con noi, per sotto certi aspetti approfondire un argomento che avevamo trattato già l'ultima volta che ci siamo visti, argomento che prende le mostre dalla superbollettazione che si già sta facendo sentire nelle tasche degli italiani, anche come si può dire nelle casse delle aziende. Enrico Eva nei giorni scorsi ha lanciato una proposta abbastanza shock, anche se il termine forse non è tra i migliori, però è una proposta quantomeno intorno alla quale bisognerà pure prima o dopo cominciare a ragionare o a ragionare in termini diversi rispetto a quelli attraverso i quali si è ragionato negli anni precedenti. Assolutamente, la mia è una seria riflessione, noi stiamo assistendo un po' impassibili ad una bollettazione che è assolutamente fuori controllo, abbiamo un aumento, un'impennata delle bollette sia dell'energia elettrica che del gas, lo stiamo misurando soprattutto sulle imprese, ma conseguentemente si rifletterà sui consumatori, quindi che siano coscienti i consumatori di questa regione, che alcuni prodotti per forza di cose dovranno aumentare perché il costo energetico per produrre il pane, per fare la torrefazione del caffè, per fare un serramento sono andati alle stelle, abbiamo aumenti di bollette, abbiamo visto che superano in alcuni casi anche il 150%, quindi aumenti assolutamente fuori controllo, oserei dire imbarazzanti. La mia proposta forte è la seguente, noi abbiamo a 136 km in linea d'aria, una centrale nucleare, quella di Kirsko e attualmente, forse ce ne dimentichiamo, noi abbiamo solamente il rischio di vivere in una regione con una centrale nucleare a 136 km di distanza, quindi abbiamo solamente il rischio e non abbiamo alcun beneficio di tale impianto. La mia proposta è un accordo, un patto, un accordo bilaterale, regione Fruinenza Giulia, centrale di Kirsko che ricordo è di proprietà del 50% del governo sloveno e 50% del governo croato, affinché la regione nostra cofinanzi la messa in sicurezza e quindi sarebbe assolutamente un interesse primario dei cittadini di questa regione, la centrale di Kirsko che tra l'altro ha approvato un raddoppio, in luglio del 2021 c'è stata l'approvazione del raddoppio del sistema di produzione, quindi vedremo un altro redattore vicino sempre a 130 km di distanza, quindi regione che cofinanzi parte della centrale in cambio per le imprese, per i residenti di questa regione, questa è una mia riflessione, che ci sia una materia prima dell'energia elettrica a costi vantaggiosi, quindi un reciproco accordo, io ti cofinanzio e in cambio ricevo energia elettrica a tariffe vantaggiose per i residenti, per le imprese di questa regione. Se non facciamo nulla abbiamo solamente il rischio di convivere con una centrale vicino, io vorrei avere il rischio che non posso toglierlo, ma anche avere qualche beneficio, questo è il senso di questa proposta forte. Lei dice in maniera anche molto comprensibile per certi aspetti, la centrale c'è, non possiamo spegnerla, tanto vale arrivare ad un accordo per sfruttarla in un periodo come questo che si preannuncia particolarmente complesso. Assolutamente sì, guardi io prima di venire in trasmissione mi sono documentato sulle centrali nucleari oggi attive in Europa, abbiamo in questo momento 125 reattori attivi in Europa, quindi noi siamo nel mezzo del Mediterraneo, siamo circondati dalla Francia con il record di 56 centrali alla Svizzera, alla Germania, all'Austria, alla Slovenia, a tutti i paesi dell'est sono ricchi di centrali nucleari per la produzione di energia elettrica. La mia attenzione non è una proposta di riprendere il nucleare in Italia, anche se ritengo che il momento storico potrebbe riflettere, bisogna a questo punto far riflettere perché siamo in un momento storico diverso. Nell'immediatezza io dico facciamo un accordo con una centrale che è in uno Stato qua accanto a noi, sul quale non abbiamo alcun potere, contribuiamo a mettere in sicurezza quella centrale, non che non lo sia, però sicuramente nella creazione di un secondo reattore potremmo essere attori e non spettatori, questo è un po' il significato e ritengo che la nostra regione possa, se lo ritiene, se lo ritiene mio è assolutamente un suggerimento in punte di piedi, però non possiamo assistere alle imprese che siano massacrate sotto il punto di vista energetico. Già in condizioni normali, la piccola impresa italiana paga il 35% in più di bollette rispetto ai propri competitor europei, quindi la stessa impresa, la falegnameria ubicata a Trieste, paga il 35% in più di energia elettrica rispetto alla falegnameria ubicata in Germania, in Francia, in Austria e già questo è uno scompare penso sotto il punto di vista competitivo per la piccola impresa, oggi siamo in condizione di trovarci che alcune imprese sono assolutamente fuori mercato perché i costi energetici che guardate in questo momento non sono ancora ben comprensibili da tutti perché durante tutto l'arco del 2022 le imprese andranno a ricontrattualizzare il rapporto con il proprio fornitore e in quel momento si vede l'impennata, la triplicazione, il raddoppio della bolletta genetica, quindi in quel momento il piccolo imprenditore o il grande imprenditore toccherà con mano cosa significa questa impennata di costi, la mia è una proposta immediata, la centrale c'è e qua accanto bisogna percorrere, ritengo questa via esplorativa perché altrimenti abbiamo solamente la rassegnazione di avere una bolletta che è triplicata. Lei ha già parlato con qualche d'uno prima di lanciare la proposta? No, no assolutamente, guardi la proposta è nata dopo aver, mi sono documentato e quindi ho visto un po' con stupore, ma lo comprendo che Groazia e Slovenia proprietari dell'impianto rispettivamente il 50% intendono fare un raddoppio dello stesso, il Parlamento sloveno ha dato un parere favorevole e quindi prendendo atto di questa crisi energetica alla quale siamo esposti in primis come imprese, ma attenzione lo saremo esposti anche come consumatori perché il prezzo del pane ritengo aumenterà, per produrre un pane ci vuole gas metano e ci vuole energia elettrica, le fonti energetiche che l'Italia purtroppo non dispone deve andare a recuperarle dai paesi esteri e i paesi esteri stanno approfittando di questa situazione, di questa impasse tipica italiana, quindi non è stata alcuna esplorazione con alcuna forza politica, è una riflessione, quindi invito chi ha potere su questo a riflettere seriamente perché ritengo che la nostra regione potrebbe essere attore su questa partita. Per quanto riguarda le altre problematiche che hanno a che fare con il mondo della piccola impresa, con il mondo dell'artigianato, avete quali numeri di assenze dal lavoro dovute al virus? Si riuscite in qualche modo a quantificare? Percentualmente no, ma ci sono parecchie assenze per contagi, io ritengo anche che questo regime dei colori delle regioni debba essere oltrepassato, siamo forse in una condizione fortunatamente diversa e quindi mi dedicherei solamente alla pressione a livello ospedaliero per dare un senso di quanto aggressivo è il virus, abbiamo moltissime persone in isolamento, per fortuna la grande maggioranza di queste stanno bene, forse queste regole devono essere riviste perché altrimenti abbiamo una forza lavoro privata di troppe mani, di troppi cervelli, questo è un problema che oggi di sta affliggendo gran parte dell'Italia e lo stiamo pesando anche nella nostra regione e nella nostra città, quindi ritengo che anche il discorso delle quarantene, ma dagli abbozzi che vedo dovrà essere per fortuna e per forza rivisto perché siamo in una condizione un po' diversa, con questa variante per fortuna molto più contagiosa ma meno aggressiva si dovrà convivere, non possiamo permettergli di tenere una flotta di persone a casa, in isolamento o domiciliare quando la pressione magari ospedaliera rimane dignitosa, quindi andrà ritengo ripensato a questo, altrimenti avremo un febbraio-marzo con un'assenza del lavoro che si può avvicinare al 50% e diventa pericoloso. Tra l'altro mi chiedevo anche se avete dei riscontri in questo senso, ci sono anche lavori, ci sono anche appuntamenti che saltano per la paura da parte del comitente, se si tratta logicamente di un comitente privato che magari dice voglio cambiare il bagno, voglio cambiare le tubature, magari si fissa l'appuntamento e poi per questioni collegate anche alla paura del contagio, anche il mondo dell'impresa è costretto a determinate stop and go in questo senso come fra l'altro succede per dire anche nel mondo dello spettacolo, sappiamo che ci sono degli spettacoli che saltano in quel caso per i contagi, qui la domanda è più su un eventuale senso di paura che può esserci nel comitente privato, nella famiglia. No, guardi questo fenomeno l'abbiamo visto purtroppo nel primo lockdown dove c'era diffidenza dell'estraneo, anche del collega di condominio, del collega di lavoro, per fortuna in questo momento no, c'è molta responsabilità da parte del titolare dell'impresa artigiana e dei suoi collaboratori, quando si entra all'interno di un domicilio la persona indossa i dispositivi di protezione individuale per cui è molto protetto, casomai sarà l'artigiano che è esposto un rischio perché molte volte quando va nelle case delle famiglie non troviamo il condomino che è altrettanto attento come il mio imprenditore e i suoi lavoratori, quindi il rischio io potrei ribaltarlo, no, però fortunatamente c'è una consapovelezza e una convivenza abbastanza serena su questo aspetto. Quello che in questo momento mi preme sottolineare è che tutte le persone che abbiamo in questo momento in isolamento, in quanto positivo, in quanto familiari, ovviamente non apportano il proprio lavoro sia negli uffici che nei reparti di produzione, quindi attenzione che alcune imprese possono entrare in sofferenza perché non hanno la totalità della forza di lavoro che è quella per la quale magari hanno firmato un contratto che prevede delle scadenze e anche delle penali, quindi qua c'è una riflessione, un rischio grosso che soprattutto la piccola impresa ha. Guardate che, visto che il personale preparato si trova con moltissima difficoltà, quando una persona o rifiuta la vaccinazione e quindi rimane a casa, lo vedremo nel 15 febbraio, oppure quando sta in malattia, attenzione che il piccolo imprenditore non riesce a trovare sul mercato una figura professionale che riesca per 30 giorni, per 60 giorni a tamponare la figura che manca. Ecco, stiamo parlando di una cosa che non esiste, è fantascienza questo, quindi alla fine uno si è formato il proprio lavoratore ed è sacrosanta quella figura perché è quasi insostituibile, d'accordo? Quindi dobbiamo entrare in quell'ottica di idee che la forza lavorica non deve mancare, altrimenti si va in crisi, soprattutto la piccola impresa va in crisi, un'impresa da tre dipendenti, se me ne manca uno, attenzione, manca il 30% della forza lavoro, quindi è un dato molto importante. Torniamo per chiudere all'argomento che abbiamo trattato all'inizio, questa sua proposta, diciamo shock, perché a lei piace anche poi vedo, è una definizione, da noi giornalisti ti piace usarla, ma insomma… Si aspetta comunque delle reazioni, ha già impostato qualche contatto? Guardi, c'è stata anche un'uscita giornalistica su questo, delle reazioni ne ho avute moltissimo e le reazioni le vado a conteggiare dai messaggi, delle mail che ho ricevuto, ritengo di una quasi totalità di ovazione a favore, nel senso è da svariati soggetti, è preciso, quindi nell'immediato è una delle pochissime cose per le quali noi possiamo ragionare, io ripeto il concetto di base, se non facciamo nulla il rischio di avere una centrale nucleare a 136 km di linea d'aria, Trieste ce l'ha, non possiamo cancellare quel rischio perché la centrale c'è e lavora H24, la proposta è, cerchiamo almeno di avere parzialmente un beneficio da parte di quella centrale, soprattutto nell'ottica di un raddoppio che Slovenia e Croazia hanno deciso senza sentire il parere di noi residenti, anche perché sono, parliamo di uno Stato assolutamente indipendente e quindi noi non possiamo assolutamente farci nulla, quindi vorrei essere non solo spettatore ma attore e spettatore, questo è un po' il senso di questa mia proposta, shock, che piace il marchio shock, però questo è un po' il senso della proposta. Poi casomai ci fa sapere se ci sono dei passaggi o delle risposte anche ufficiali. Grazie allora a Enrico Eva, direttore generale di Confartigianato per essere stato con noi, buon lavoro a lei e anche a tutto il comparto. adesso la pubblicità, poi l'edizione del 13.20 del nostro telegiornale. Ci vediamo fra un po', rimanete con noi. Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca e ancora con il caso Resinovic, c'è una testimone che afferma di aver visto Liliana Resinovic in giornate successive a quella ufficiale della sua scomparsa. Ma comunque ci racconta tutto meglio Gianluca Paladine che ha intervistato questa persona. Vediamo il servizio di apertura. L'unico dato certo sul caso Resinovic è che Liliana è morta. Ma dove è morta e soprattutto quando è morta? Abbiamo conosciuto una persona che l'ha vista passare il 22 dicembre, otto giorni dopo la sua scomparsa, qui nei pressi dell'ospedale Maggiore. Un avvistamento, una possibilità che Liliana Resinovic sia passata di qui dopo essere scomparsa da casa. Una persona che ha contattato Telequattro racconta di averla vista. Signora, lei era qui che stava camminando e a un certo punto si è vista passare improvvisamente questa persona? Sì, esatto. È passata a fianco a me e gli ho dato strada perché nell'essermi alle spalle ha fatto un verso particolarmente nervoso, forte a tal punto che mi sono girata e gli ho dato strada. C'era una persona con lei, qualcuno la seguiva? C'era solo lei alle mie spalle che è arrivata all'improvviso, visto che probabilmente la sua velocità mi ha superato e ha continuato da sola. Quindi a un certo punto lei ha camminato in questa direzione e Liliana stava andando avanti? Era davanti a me a questo punto, camminando molto veloce. Io mi sono dovuta fermare perché aspettavo l'autobus qui. Non ha attraversato la strada, ma o è entrata dentro l'ospedale maggiore o si è diretta verso via Stuparic. Come era vestita? Mi ha colpito molto il colore del pantalone, che era un pantalone nero. Aveva un giubboto corto, sportivo, del tipo imbottito e la cosa che ho visto aveva una struttura molto magra. Aveva anche una borsa che teneva sul lato sinistro, a tracolla, un colore torto, era scuro, quel colore lì. Ed era una borsa di tipo a sacca. Se fosse stata davvero Liliana e dunque possibile si fosse allontanata volontariamente con il 14 dicembre, voleva stare per un po' di tempo lontana da qualcuno? Lei in un secondo momento ha visto le foto su Facebook di Liliana Resinovic. Esatto, e lì mi sono resa conto che era lei. L'ho vista bene in viso perché oltretutto non aveva neanche la mascherina. Aveva gli occhiali, aveva questo ciuffo chiaro, il colore dei capelli, del colore come risulta anche in altre foto sue. Aveva sicuramente un cappello in testa, ma quei capelli che gli fuoriuscivano. Può essersi accorta di tutto questo, lei il 27 dicembre è andata in questura. Sì, perché ho realizzato il 27 che la persona vista il 22 era la signora. Oltretutto io stavo andando a lavorare, avevo come una borsa perché dovevamo fare una piccola festa in ufficio e quindi mi ero fermata in panetteria. E quindi ho ulteriormente conferma di memoria che era il giorno 22 verso 8 e 50, 9 di mattina. Il tracciamento attraverso tampone per l'entrata in quarantena a causa di coronavirus è in tilt per via delle troppe chiamate per casi sospetti che si registrano quotidianamente. La dinamica è stata affrontata da Asugi che intende potenziare il sistema seppure con molte difficoltà. L'elevato numero di casi di positività da coronavirus e il personale non sufficiente per la molle di lavoro in campo sanitario hanno mandato in tilt il sistema del tracciamento. Il direttore sanitario di Asugi Andrea Longanesi spiega come funziona il tracciamento e palesa la grossa difficoltà al momento di compiere a dovere questa attività. Il tracciamento è quell'attività che noi facciamo dopo la segnalazione della positività, intervistiamo il positivo e cerchiamo di capire quali sono i contatti che ha avuto il positivo e attraverso un'operazione che dura anche un mezz'ora, tre quarti d'ora si ricostruiscono tutti i contatti e poi questi contatti vengono ovviamente tamponati, vengono verificati nel decorso per vedere se diventano positivi oppure no. È chiaro che è un'operazione molto complessa, lunga e che si riesce a fare quando le positività sono contenute circa in 50-60 casi nuovi al giorno. Attualmente a Trieste siamo circa 800 casi nuovi al giorno, questo ha fatto saltare molte procedure, tra cui il tracciamento, che si continua a fare ma con molte difficoltà. In media dalla chiamata passa circa una settimana prima del tampone di ingresso in quarantena. A regime l'auspicio è quello di monitorare i casi del giorno nel giorno stesso. Circa una settimana, adesso circa una settimana in questo momento, stiamo facendo un'attività di miglioramento di queste operazioni impiegando altro personale, non soltanto personale sanitario, anche personale non sanitario, coordinati sempre da personale sanitario, da un medico, questo per velocizzare i tempi. Noi contiamo nel giro di una decina di giorni di tornare in pareggio, quindi di riuscire a fare i casi del giorno stesso. Infine una dinamica che rappresenta un vicolo cieco, ovvero chi da tampone scopre di essere positivo, ma in attesa del tampone ufficiale, passando troppo tempo, si negativizza, restando anche scoperto da Green Pass. No, c'è prima il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove per noi c'è l'Ispettore Gurtner. Buongiorno Ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno a te, telespettatori. Come sta? Come è la giornata? La giornata mi sembra ottima per andare a fare bei giri, adesso finisco il turno e quindi andrò a fare un giretto. Stiamo tutti bene qua al momento, spero anche voi. Non ci sono stati problemi questa mattina particolari a causa della bora, abbiamo dato assistenza in via Costallunga tra la via Gravisi, poco dopo la via Gravisi, ai visi del fuoco per un taglio d'albero a causa della bora. C'è stata un'avaria, segnalata come incidente, in grande viabilità. Siamo rimasti là impegnati qualche decina di minuti a dare assistenza, fin tanto che non arrivava l'ANAS e il carro attrezzi per il veicolo. All'altezza di servo la direzione è Molo Settimo, ma niente di particolare, tutto abbastanza tranquillo. Non ho segnalazioni per il pomeriggio e buono. Ok, grazie Ispettore, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a tutti. Allora il Tribunale di Mali Trieste, chiedo scusa, ha condannato a 5 mesi di reclusione con la condizionale al pagamento delle spese processuali il leader del Movimento 3V, Ugo Rossi, che è anche consigliere comunale, accusato di oltraggio resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate per i fatti avvenuti il 21 settembre scorso all'uscita di un ufficio postale a Trieste in Viale Sanzio. Ricorreremo in appello, ha affermato Rossi in una diretta Facebook. La stessa attraverso la quale ha dato notizia del provvedimento a suo carico. Non ci fermeremo, andremo fino in Cassazione. Rossi denuncia inoltre che è stato violato il suo diritto alla difesa. Stamattina hanno bloccato il mio avvocato Giuseppe Turco all'ingresso del Tribunale perché senza Green Pass. Ha l'esenzione medica che non gli è stata riconosciuta. Mi è stato assegnato un avvocato d'ufficio contro la mia volontà e questo, ribadisce ancora Rossi su Facebook, è un processo politico. Si terrà in via telematica l'edizione della giornata dell'infanzia 2022 organizzata dal Comune per divulgare tutte le informazioni in merito ai servizi educativi. Il Comune di Trieste è organizzato anche per quest'anno la giornata dell'infanzia al fine di orientare i genitori riguardo la scelta dei servizi educativi per i propri figli. 30 scuole dell'infanzia, 18 nidi, 2 spazi gioco, 2 sezioni primavera messe a nudo per così dire con l'ampia offerta comunale per i servizi 06. La modalità sarà giocoforza telematica ed è organizzata per sabato 15 gennaio dalle 10 alle 13. L'amministrazione comunale ci tiene molto a questo momento di incontro con le famiglie per presentare i servizi 06 che sono in campo al Comune e anche quelli convenzionati. L'appuntamento si svolgerà online sabato 15 gennaio e sarà possibile vedere la diretta tramite il canale YouTube e la pagina Facebook del Comune di Trieste. Sulla pagina Facebook del Comune di Trieste le famiglie potranno interagire con noi, potranno fare le domande per sciogliere tutti i dubbi e chiedere ulteriori dettagli sul servizio. Durante la diretta verranno inoltre fornite le informazioni sul servizio Mensa e sulle modalità di iscrizione con i dettagli sui criteri, sulle tempistiche e sulla formazione delle graduatorie e sulle tariffe. Anche se è online noi ci teniamo particolarmente, abbiamo programmato poi tutta la scaletta di interventi per non lasciare niente di intentato. Quindi verranno i coordinatori pedagogici a spiegare i servizi dei nidi delle scuole di infanzia, poi ci saranno le PO che parleranno ovviamente dei servizi Mensa, di come ci si potrà iscrivere. I servizi 06 per noi sono un orgoglio di questo Comune e si sono sempre distinti anche a livello internazionale per i modelli organizzativi e quelli pedagogici. Comunica a Trieste Trasporti che le segreterie provinciali di Filt, CGL, Filt, CISL, Uiltrasporti, Faisa, Cisale e UGL hanno aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale programmato per venerdì 14 gennaio. Lo sciopero della durata di 4 ore interesserà sia il personale viaggiante, conducenti, controllori e verificatori, sia il personale tecnico e amministrativo. Per il personale viaggiante a Trieste lo sciopero avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle ore 13. Per il personale tecnico e amministrativo riguarderà le ultime 4 ore del servizio. Nel corso della giornata potrebbero dunque verificarsi disagi sia il servizio di trasporto tra le 9 e le 13, sia per quanto riguarda gli sportelli per il pubblico. Prima delle 9 e dopo le 13 tutti quanti i collegamenti saranno garantiti. Abbiamo anche un aggiornamento su Monfalcone, è appena arrivata in redazione, 6 milioni di euro da parte del PNRR per una nuova condotta dell'acqua Idris che ottiene appunto un contributo da 6 milioni di euro per una nuova condotta adduttrice al servizio del sistema acquedottistico del comune di Monfalcone interconnessa con la dorsale che alimenta l'acquedotto di Trieste. Il progetto è stato inserito nel piano nazionale di ripresa e resilienza nel capitolo investimenti in infrastrutture idriche. Siamo orgogliosi di questo ottimo lavoro che ricade a beneficio dei cittadini di Monfalcone, ha dichiarato il sindaco Cisint. Un finanziamento che si aggiunge al contributo PNRR ottenuto per la realizzazione del centro sportivo integratore e che dimostra l'importanza del lavoro di squadra e di una progettualità comune. Ce ne occuperemo più approfonditamente questa sera con un servizio all'interno del nostro telegiornale e ci occuperemo anche, fra l'altro, del nuovo centro, anzi per meglio dire, dello spostamento del hub vaccinale a Monfalcone all'interno di Fincantieri. Vi ricordo ancora, prima di passare al meteo, che al Politiama Rossetti, anche di questo ci occuperemo questa sera nel telegiornale delle 19.30, è andato in scena ieri con un buono successo di pubblico, il musical che è ormai data 1968, che da un lato ha perso un pochettino la carica trasgressiva che aveva all'epoca, ma che rimane sempre una testimonianza su un mondo che forse, se fosse cambiato, chissà, non sarebbe stato male. Allora andiamo al meteo, vediamo subito come nei prossimi giorni l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale estenderà la propria influenza anche sull'Italia e favorirà l'afflusso di correnti secche occidentali che in quota saranno progressivamente più miti. Per quanto concerne domani si prevede cielo in prevalenza sereno, al mattino soffierà vento da nord-est moderato sui monti in quota, sulla costa Bora moderata con qualche raffica ancora sostenuta a Trieste. Nel pomeriggio vento in attenuazione su tutte le zone, zero termico indeciso rialzo, in serata sarà attorno ai 2400 metri circa con inversione termica nei bassi strati. Vi ricordo Trieste in diretta alle 17.30 e poi il telegiornale delle 19.30. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS